Una risposta importante per ammodernare il sistema viario di Lucca è il primo passo che proseguirà poi con la realizzazione degli assi viari. Questa è un'opera da lungo attesa che aveva preso avvio con un appalto concorso per quanto riguarda la progettazione che era stata attivata dall'allora presidente della provincia Baccelli che ha avuto un lungo iter per quanto riguarda anche la ricerca dei fondi però la regione poi è riuscita a dirottare oltre 15 milioni per la realizzazione di questa importante infrastruttura con la firma di oggi diamo via all'iter attuativo perché la provincia che è stazione appattante in questo momento è in condizione di poter procedere per quanto riguarda la gara e per poi veder realizzata un'opera che sarà di sicuro beneficio per quanto riguarda la mobilità nell'ambito del sistema lucchese.